I componenti della commissione seduti sui banchi ben distanziati, il candidato al centro davanti a favore di proiettore. Ecco una delle aule che attende il ritorno a scuola degli studenti per l'esame di maturità 2020 l'anno del covid. Qui siamo all'istituto di istruzione superiore a Istainebbia di Loreto. Tra alberghiere e commerciale da mercoledì e fino a luglio si diplomeranno 250 ragazzi. In totale nelle Marche sono quasi 14.000 con 352 commissioni composte da insegnanti interni e presieduti da un esterno. Le entrate e le uscite sono separate per evitare gli assemblamenti di docenti e ragazzi. Poi ogni aula, banchi distanziati, igienizzante, mascherine. Durante il colloquio solo l'alunno potrà togliersi la mascherina durante il colloquio. Abbiamo fatto una formazione per tutti i collaboratori scolastici per la sanificazione dell'aula ogni volta che cambia il candidato. Ecco il ritorno a scuola per il momento più importante dopo tre mesi di didattica a distanza. Nei professionali si lavora per un ritorno alla normalità in vista del prossimo settembre, creando spazi adeguati per le lezioni di sala e cucina, racconta lo storico dirigente Torquati. Da vent'anni alla guida dell'alberghiero nella città lauretana. A un passo dalla pensione termina la carriera nell'anno più difficile per la scuola italiana. Io spero che a settembre si ritorni un po' alla normalità perché una scuola senza studenti, quando venivo a scuola da solo con un collaboratore, un amministrativo, un tecnico, senza nessuno, senza alunni, senza docenti, è stata veramente triste. In bocca al lupo a tutti i ragazzi. Io credo che anche questo esame per questi ragazzi sia importante, sia il fatto di poter tornare a scuola, di fare un colloquio dove possono far capire quello che hanno appreso. è per loro importante perché è sempre una prova, una delle prime prove che affrontano la vita.